aveva perso 3-0 l'andato, il gol di Christensen, trentesimo del secondo tempo per 1-0 a favore del Brundby. La crisi delle squadre scozzesi, Dundee United battuto addirittura per 4-0 in casa dal Vitesse di Arnene. Abbiamo visto il primo gol di Latueru nel corso del primo tempo, il raddoppio dello stesso Latueru, ma qui abbastanza netta la deviazione, con l'azione che stiamo vedendo. Il Vitesse di Arnene, una formazione di fresca nobiltà possiamo dire per quello che riguarda il calcio olandese, va in vantaggio come abbiamo visto, raddoppia con Latueru e vediamo l'esultanza e anche la scena particolare che i giocatori dedicano, una sorta di balletto olandese. 3-0 su calcio di rigore di Van den Brum e quarto gol su calcio di punizione di Ayer. Ed è il 4-0, il Vitesse di Arnene elimina il Dundee.